La prima domanda che volevo rivolgere riguarda le telecomunicazioni. Quali servizi, quali innovazioni dobbiamo attenderci nel futuro prossimo? L'innovazione principale sarà che non si parlerà più di telecomunicazioni ma di ICT, telecomunicazione di informatica insieme. Noi ci attenderemo sempre di più dalla comunicazione telefonica una pletora di servizi che adesso non vengono fatti attraverso il cavo ma vengono fatti in casa. Questo è uno stravolgimento completo dell'organizzazione aziendale, delle organizzazioni anche familiari. Pensi pure a quello che capiterà per la televisione, una televisione via cavo, telecomunicazioni, televisione, informatica, è tutt'uno. Quella parola straniera che ICT, Information Communication Technologies, sarà proprio la chiave perché il nostro paese, come tutti i paesi del mondo avanzati, diventi sempre più competitivo. Invece riguardo alla gestione delle risorse umane, come la crisi ha impattato su questa gestione? Ha impattato fortemente non per le società di servizi, per le quali fra l'altro abbiamo avuto un decremento, ma non così drammatico come per le società che producono beni. E questo perché mentre comprare un bene è un sì o no, non compro e quindi chi è che produce ha un bene venduto in meno. I servizi non hanno un sì o no, possono avere una lenta diminuzione o un lento aumento e quindi sono meno impattati dalle crisi e hanno sviluppi senza dubbio interessanti ma non a gradino ma in continuo.